sono successo un po di cose durante la storia la ormai lunga storia dei pokemon più di 25 anni che non sono esattamente felice tranquille sono successo un po di cose brutte pokemon è stata collegata in totale a circa 20 decenni la maggior parte sono appunto indiretti nel senso che non è stata pokemon a causare direttamente la morte di queste persone ma ci sono state delle circostanze che hanno portato a ci spostiamo negli stati uniti nel 1999 alla fine del 1999 quando la catena di fast burger king decide di collaborare con i pokemon se avete più di 25 anni almeno di sicuro vi ricorderete di quanto fosse potente pokemon ai tempi quanto avesse il potere di generare milioni e milioni di vendite su qualsiasi tipo di prodotto che buttava fuori cioè veramente dall'uscita dell'anime il franchise pokemon ha proprio ha ricevuto un'impennata non so nemmeno spiegarvi è diventato uno dei franchi più grandi del mondo così dal nulla sono usciti videogiochi ok ma con l'anime anche in occidente è nato proprio un fenomeno chiamato pokemon mania tutti i bambini di tutto il mondo sono letteralmente impazziti tutti volevano dei giochi pokemon le carte collezionabili pokemon per scambiarle i videogiochi per avere i pokemon più forti eccetera eccetera quindi che cosa è successo i genitori di tutto il mondo ovviamente volendo accontentare i bambini compravano queste carte che costavano poco compravano i giochi che costavano poco i peluche eccetera eccetera tutti a un certo punto della vita hanno avuto almeno un gioco di pokemon burger king ci ha visto lungo e ha detto ok pokemon è così potente cioè è così potente che letteralmente potremmo vendere anche una caccola a forma di pokemon che la gente lo comprerebbe e quindi si mette d'accordo con pokemon non so bene come se volete i dettagli proprio approfonditi guardatevi il video di sidonia su youtube burger king decide di realizzare insieme ad pokemon company vari gadget da fornire da regalare in omaggio con l'acquisto del kid meal che sarebbe l'equivalente dell'happy meal praticamente quindi investendo 22 milioni di dollari se non sbaglio hanno deciso di realizzare queste pokeball con dentro una sorpresa con dentro un pokemon questi pokemon avevano varie peculiarità alcuni si illuminavano al buio alcuni spruzzavano l'acqua se ce la mettevi robe del genere no si burger king ha investito tutti questi milioni per produrre questi gadget no e cosa è successo come per le carte di pokemon i bambini volevano avere tutti i pokemon di questa release sono stati distribuiti oltre 70 milioni 70 milioni di queste pokeball cioè 70 milioni di queste cose qua erano nelle case praticamente di tutti gli americani la gente sapeva che spendendo un dollare 99 se non sbaglio avrebbero avuto in omaggio questi giochini una volta dato in omaggio tutti questi gadget succede una cosa brutta l'11 dicembre del 1999 una bambina di 13 mesi in sonora california era tranquillamente nel suo box e la madre era andata a farsi la doccia per far stare tranquilla la bambina la neonata lascia nel box della bimba la pokeball questa donna aveva altri due figli un po più grandi se non sbaglio di quattro cinque anni e quindi era abbastanza tranquilla cioè cosa potrebbe succedere nel box con i suoi giochini lasciamoli quando esce dalla doccia però cosa è successo vedete la parte rossa della pokeball ha trovato la figlia con questa parte appiccicata al volto praticamente dove vedete la fessura c'è rientrato il naso della neonata e respirando si è attaccata quella parte della pokeball al viso e più cercava di respirare più la attaccava al viso però essendo una neonata non riuscendo a respirare attaccava ancora di più questa pokeball al viso e neanche i fratelli maggiori sarebbero mai riusciti a staccarla perché dopo un po rimane appiccicata talmente forte che ci deve essere un adulto per rimuoverla e l'adulto in questione era nella doccia quando la madre è uscita dalla doccia la neonata purtroppo era già morta si è andata veramente male questa vicenda non una roba bruttissima come ha detto sai doni nel suo video la bambina non avrebbe neanche potuto chiedere aiuto urlando o piangendo perché non poteva respirare e letteralmente non poteva fare niente se non essere salvata da qualcuno prima volta che succede una cosa del genere e inizialmente le persone incaricate di gestire la questione al burger king hanno detto che praticamente questa cosa è successa un spiacevole equivoco ma i loro giocattoli avevano passato tutte i check tutti i controlli del caso e quindi erano a norma erano conformi potevano essere sul mercato per via dei appunto protocolli di sicurezza vigenti all'epoca negli stati uniti effettivamente avevano ragione cioè era proprio così avevano passato i controlli di soffocamento ma non avevano ovviamente neanche fatto dei controlli sulla possibilità di asfissia non esistevano dei controlli riguardo a questo comunque è successo un bordello ok burger king ci ha messo un po se non sbaglio due settimane a riconoscere effettivamente che c'erano tante di queste pokeball nelle case degli americani 70 milioni quindi ha detto ok la gente che le ha già comprate le ha già comprate noi almeno facciamo in modo che altra gente non le compri cioè non le abbia poi in casa ma la cosa interessante che decidono di fare è cercare di ritirare anche tutte quelle già vendute già date insieme al mill quindi decide di creare una sorta di promozione dicendo ragazzi se voi avete comprato queste pokeball venite a restituircele venite a restituircele vedete hanno iniziato a mettere questi avvisi praticamente in cui dicevano portateci le pokeball vi potete anche tenere i giochini ma portateci le pokeball noi in cambio vediamo delle patatine fritte piccole hanno cercato di sponsorizzare questa cosa tantissimo in qualsiasi programma insomma comunque la notizia aveva fatto scalpore ma la gente aveva attribuito la colpa tra virgolette ai genitori della neonata che non sono stati attenti in quello specifico momento quindi la gente ha detto ma sì perché dovrei restituire la pokeball io controllerò i miei neonati e saprò che non succederà niente ed effettivamente basta questo sono successe altri 9 casi se non sbaglio in cui a dei bambini è rimasta attaccata questa pokeball ma essendo sorvegliati gli adulti facendo forza tanta forza riuscirono sempre a staccare questa pokeball dal viso dei neonati ok tutto bene quel che finisce bene no no insomma questa campagna non è stata molto efficace non sono riusciti a ritirare tutte le pokeball che volevano infatti ne hanno ritirate se non sbaglio circa 20 milioni che sono tanti ma sulle 70 milioni sono poche in effetti quindi dopo questa cosa qua hanno detto che continuiamo a dare i pokemon senza la pokeball almeno fino a quanto doveva durare la collaborazione tra burger king e pokemon però ormai le pokeball erano nelle case degli americani una volta che era già finita la collaborazione tra burger king e pokemon purtroppo è successo un altro caso questa nonna trentenne ha lasciato il gioco alla neonata e successa la stessa identica cosa lei è andata a far la spesa se non sbaglio e quando è tornata questo neonato era morto soffocato dalla pokeball e niente dopo questa cosa voi penserete ok burger king ci ha messo la faccia e non se lo cagherà più nessuno invece cosa è successo la gente ha iniziato comunque a dare la colpa alla donna che si stava occupando del neonato perché l'avevano detto in tutte le salse che questi tipi di pokeball avrebbero potuto soffocare i neonati o comunque i bambini sotto i tre anni la sua discolpa lei dice che non sapeva non era conoscenza del fatto che queste pokeball fossero dannose potenzialmente dannose quindi dopo che tutto era già finito comunque appunto le pokeball erano nelle case delle persone è successo un'altra volta però ragazzi è successo due volte non doveva succedere assolutamente purtroppo è successo per via di tutti questi spiacevoli eventi questo però ragazzi come vi ho detto non è l'unico caso in cui pokemon hanno ucciso una persona che lavorava per the pokemon company ha perso la vita questa persona si chiama innanzitutto iniziamo dal principio si chiama takeshi shudo è questo uomo qui che ha lavorato per the pokemon company come scrittore capo nel senso che lui scriveva i copioni comunque scriveva la storia dell'anime e anche del primo secondo e terzo film pokemon questo uomo specialmente durante la scrittura e l'ideazione del secondo film quello con lugia diciamo che si è un po incazzato in varie occasioni aveva ideato lugia che è il pokemon principale di questo film appunto in una maniera totalmente diversa da quella che poi noi abbiamo visto insomma lui ogni volta che scriveva qualcosa idee geniali tra l'altro che avrebbero fatto piacere di sicuro a un pubblico più adulto avrebbero fatto avvicinare pokemon a un pubblico più adulto rispetto com'era e come sempre stato venivano quasi sempre tutte scartate the pokemon company game freak non volevano che alcune tematiche che lui aveva toccato fossero trattate in un film che era destinato ai bambini o meglio the pokemon company voleva destinare questo film ai bambini takashi shudu invece aveva un'idea un po diversa comunque aveva lavorato pure all'anime e era davvero incazzato dal fatto che ogni volta che proponesse qualcosa di davvero assurdo proprio bello per lui come si immaginava che il brand pokemon sarebbe dovuto evolversi veniva sempre tutto rifiutato quindi ha iniziato piano piano a sviluppare una sorta di amore e odio verso il suo lavoro e mentre scriveva appunto la storia e i personaggi del film di pokemon 2000 ha sviluppato diciamo un blog in cui scriveva delle sue esperienze di ciò che faceva durante la scrittura come si concentrava da dove venivano fuori le idee in poche parole ha detto che un mix di alcol e le droghe facevano venire in lui all'ispirazione per scrivere quindi l'ugia è stato creato grazie all'alcol insomma questa cosa qua ha portato lentamente a una degradazione del corpo e della mente di takashi shudo perché se per fare il tuo lavoro sai che devi farti del male fisicamente assumendo tanto alcol assumendo qualche droga va da sé che ti stai autodistruggendo a causa di questo takashi ha fatto dei danni irrecuperabili nel suo corpo tanto che dopo aver mandato a fanculo tutta la produzione di pokemon è morto a causa di un'emorragia cerebrale nel 2010 quando sai di essere parte di un progetto così grande quale era e è pokemon sai anche che non puoi permetterti di sbagliare e ogni volta che tu crei qualcosa e ti senti dire no non va bene la cambiamo insomma deve essere stato davvero frustrante a livelli assurdi per lui poverino mettendosi nei suoi panni non riesco neanche immaginarmi sinceramente come potrebbe essere stato infatti lui per l'ugia aveva in mente una figura materna con una voce femminile questo era il suo la sua idea ma aveva anche tante altre idee che guardate il video di seidonia su takashi shudo perché spiega davvero benissimo davvero lui per pokemon aveva delle idee assurde che se fossero state realizzate pokemon non sarebbe stata come adesso magari non sarebbe neanche arrivata dov'è adesso però aveva in mente delle cose davvero fighe insomma è stato un bel colpo per lui nel 2010 appunto è in un treno per un'emorragia cerebrale ma era spesso anche durante i lavori era spesso all'ospedale per via dell'alcol che assumeva era spesso ricoverato e lavorava scriveva anche all'ospedale anzi specialmente dall'ospedale una passione un lavoro che aveva davvero a cuore si è trasformato in qualcosa che lo ha distrutto e oltre ad essere inquietante questa cosa è tristissima all'ospedale 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 Grazie.